quest'anno sono 30 anni che faccio il cantautore anzi il cantastorie 30 anni di vita canzoni viaggi persone storie appunto e ogni sera durante le date di questi concerti qui sul palco dell'auditorio un parco della musica ennio muricone di roma incontro persone amici colleghi che per un motivo per l'altro per me sono state o sono importanti io sono daniele silvestri e questa è le cose che abbiamo in comune un video podcast targato fandango live signore e signori rancore grazie allora adesso tu non sai bene dove sei capitato ma questo è da questo momento lo dico anche a voi è un piccolo format è una chiacchierata che ci facciamo ma che anche un podcast con tanto di titolo abbastanza geniale e la devi sentire la sigla ancora meglio sigla ma io mi voglio svegliare la mattina e ogni mattina ci sono loro che mi svegliano così è incredibile ragazzi veramente vuoi sentire di nuovo no 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 scherzo scherzo magari alla fine da qui a chiacchiera libera il fatto è che finora ho avuto davvero parecchie persone con cui avevo tante cose in comune ma non vedevo l'ora di averne qualcuna con cui tutto sommato non ne ho così tante cioè ne ho due o tre proprio di esperienze personali enormi per quanto mi riguarda proprio grosse importanti però ci dividono tante cose cioè ci dividono nel senso buono del termine per questo sarà davvero una chiacchierata in cui c'ho cose da chiederti però cominciando a introdurre per chi per quei pochi che non sapessero chi hanno davanti ma qualcuno magari c'è intanto questo signore all'anagrafe si chiama tarek yurcic e già questo è un'accoppiata abbastanza particolare di nomi madre egiziana padre croato cioè di istria ma parte croata padre italiano nonno di della città di fiume ok quindi capirai una storia ancora una storia lunghissima e complicatissima no in realtà neanche troppo però terra di confine sempre nei secoli esatto esatto anche con tantissima storia ma poi se uno va a vedere anche mia nonna eccetera ho anche altre origini che si mischiano perché poi mio padre non era cioè mia nonna non era completamente italiana ma c'era dello slavo dentro o no? no c'era del francese è un cocktail no l'ho te lo chiedo pure perché diciamo sono andato da quella parte perché in realtà di del lato egiziano abbiamo parlato più volte c'è capitato di parlarne anche perché per per mie deviazioni l'Egitto rimane sempre sono una zona del mondo che mi interessa molto da un punto di vista anche diciamo archeologico e di studi certo però in realtà mi hai anche raccontato più volte che cosa vuol dire la vita al Cairo tu ci sei stato anche recentemente? io in Egitto ci vado da quando sono veramente piccolo 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 credo di esserci andato quando neanche avevo un anno la prima volta e da quel momento ci sarò stato non so una sessantina di volte in tutte le versioni possibili dallo stare al Cairo a farmi il deserto a a vedermi anche luoghi magari più turistici come Charm ma che poi in realtà ti permettono di andare in zone come il Sinai insomma al deserto del Sinai piuttosto appunto che stare al Cairo ma poi spostarti verso Siwa verso l'Uahat quindi tutto il deserto del Sahara ma adesso quando è che ci sei stato l'ultima volta? mi pare un annetto fa quindi non non in epoca già diciamo di delle ultime guerre per esempio no non che ci sia lì però in fondo ce l'hai di fronte è molto vicino penso che però insomma ci tornerò e che ti dicono quelli che ci stanno e che senti? beh chi sta lì in quella zona non diciamo non percepisce questa cosa perché i confini sono estremamente insomma nitti ovviamente poi lì c'è un clima di controllo da anni e anni estremamente rigido e oltretutto io credo che ci andrò non so tra uno due mesi comunque ovviamente in Egitto e andrò verso quella direzione quindi più verso il Sinai verso Charm quella zona lì però ecco ovviamente un po' di tensione c'è ma quelle sono zone in cui comunque c'è sempre stata perché il conflitto il conflitto lì c'è c'è da talmente tanto tempo ovviamente ultimamente ha avuto dei risvolti estremamente gravi ma credo che il clima sia sempre un po' di tensione da un po' da sempre. Allora prima di cedere diciamo la tentazione di parlare di chi ha costruito realmente la piramide di Cheope invece passiamo al tufello perché in realtà in realtà Tarek è del tufello e fra l'altro tutt'ora ci stai giusto? Sì sì sì. Ok e soprattutto hai sei nato 21 anni dopo di me giusto? 89? Sì sono dell'89 quindi sì. Ed è questo che ci divide nella maniera che mi interessa e mi incuriosisce non nel senso anagrafico, nel senso di che Roma hai vissuto, in che Roma sei cresciuto però per finire di dare degli elementi a quei pochi ripeto che non conoscono secondo me ma un po' l'avete intuito da quel video che avete sentito fra l'altro Sunshine risentita adesso che era un po' che non la sentivo quella canzone che abbiamo sentito prima e che chi sta ascoltando il podcast non ha sentito quindi non dovrei fare queste citazioni per questi cazzi dentro secondo me conteneva già molto di un po' di tutta la tua filosofia del tuo modo di scrivere forse pure più di quanto ricordavo Beh Sunshine è un po' l'apoteosi di un lavoro che è stato costruito insieme a DJ Mike in sei anni quindi in quattro dischi che abbiamo pubblicato che poi si conclude diciamo questo viaggio spaziale con Sunshine e diciamo che in questi quattro dischi esploro una quantità di mondi incredibili che comunque in un modo o in un altro dopo tutte quelle avventure la mia formazione da cronosurfista, viaggiatore delle parole si era diciamo formata e quindi poi da lì in poi tutti i miei dischi hanno avuto sempre più questa espressione poi questa ricerca che avevo fatto negli anni precedenti forse l'ultimo è ancora più esplosa l'ultimo è un po' esagerato forse sì ma nel senso buono per quanto meno è veramente un viaggio col disco Xenoverso però si è formato, noi più o meno tutti ci siamo formati in un'altra era, in un'altra epoca un'epoca intanto in cui il centro di Roma in particolare era vivo succedevano cose sembra incredibile ma succedevano cose c'era questo posto, ne abbiamo parlato tante volte con gli amichetti quelli appunto con cui le cose in comune sono pure troppe che era il locale tu sei cresciuto vent'anni dopo sicuramente la periferia dà un po' di tempo a questa parte è quella che propone cose nuove, cose diverse lo fai in una maniera completamente diversa secondo me infatti non la racconto cerco, mi incuriosisce ogni tanto ne rubo qualcosa e a un certo punto ho rubato te o almeno per un po' ti ho estratto da lì però ci sono dei posti precisi dove tipo il Fat forse dove sei cresciuto in particolare oppure no, oppure era per strada sicuramente la strada intesa come tutto il mondo dello skateboard che è quello che ha anticipato la musica e che però ha qualcosa di estremamente simile al rap perché prevede i trick in un certo senso prevede molta tecnica il sapersi fare male il saper cadere e quindi sicuramente la strada che poi dallo skate mi ha portato a rappare per strada poi mi ha portato magari anche a fare il riding a fare anche la break dance perché no di cui adesso ci farà di cui adesso vi farò vedere delle cose fondamentalmente questo è quello che lo sapevo però sei stato un break dance, è vero? ma vero forse neanche un rapper sono stato un rapper vero però diciamo che diciamo che in un certo senso tutte le persone che a 13-14 anni si avvicinano all'hip hop come cultura prima di arrivare alla musica arrivano alla cultura ma anche adesso? adesso forse arrivano prima alla musica perché proprio la cultura hip hop si è un po' smembrata quindi la musica è una cosa il ballo è un'altra cosa nonostante poi in alcuni ambienti diciamo che hanno continua a essere unita però diciamo la commercializzazione le ha divise un po' queste cose però all'inizio essendo una cosa molto di nicchia quando ho iniziato io a seguire l'hip hop e il rap italiano era un periodo in cui veramente nessuno ascoltava il rap italiano fondamentalmente non potevi non appassionarti alla cultura a 360 gradi quindi anche a provare a vedere cosa significava fare altre cose e poi scegliere la tua disciplina in un certo senso c'era un luogo chiamato un luogo in realtà una serata la chiamerei ma era di pomeriggio quindi una pomeriggiata che si chiamava Fat Roma e si faceva appunto di domenica a pomeriggio quindi permetteva a me di poterci andare perché era il giorno in cui non andavo a scuola ed era bellissimo perché intanto permetteva a tutti di prendere il microfono aspetta un attimo ma tu eri già a rancore? io ero già a rancore lo stavo diventando ero già a rancore forse avevo un nome prima nelle quali mi scrivevo alle gare di freestyle però in generale ero rancore ma perché il rancore peraltro? perché il rancore? allora quando avevo 15 anni è anche diciamo facile da capire secondo me perché il rancore alla fine crea una corazza mette paura ed esprime allo stesso tempo un disagio quindi quindi insomma è abbastanza semplice capire perché un adolescente si chiama così più andando avanti il nome mi è stato un po' stretto a tratti quindi ho dovuto capire il motivo per il quale l'ho ottenuto il motivo per il quale l'ho ottenuto questo nome faccio sempre lo stesso esempio sono ripetitivo ma in realtà funziona secondo me come esempio è quello di Batman uno è vero nel senso Batman si veste da pipistrello e mette paura ai suoi nemici convinto che i nemici suoi abbiano paura dei pipistrelli ma l'unico che ha paura dei pipistrelli è Batman è questa la cosa quindi è solo uno psicopatico che gira di notte vestito come da Halloween mettendosi addosso la sua più grande paura e in un certo senso però questo gli mette paura lo fa crescere gli fa sconfiggere le proprie paure e allo stesso tempo gli crea un'armatura di un certo tipo perché se sei riuscito a vestirti della cosa che ti mette più paura non solo l'hai esorcizzata ma l'hai anche canalizzata e forse riesci a portarla verso la tua direzione e forse è il motivo per il quale continuo a chiamarmi Rancore non mi dispiace per niente come spiegazione molto un po' interrotto sulla fat eccetera il Fett Roma comunque insomma è stato un momento importante perché al Fett Roma ti interrompo di nuovo su quel palco ci sono stati veramente la qualunque dei rapper che oggi e di me qualche nome anche e soprattutto non tanto di quelli più noti ma di quelli che per te sono stati o che secondo te in quel momento avevano veramente da dire qualcosa beh gesto gesto che è sempre stato diciamo da sempre uno dei miei rapper preferiti oltre ora è anche un mio grande amico ma al tempo c'era anche Saga o che ora diciamo non vedo da un po' di anni ma Saga Ersecco è stato comunque un Saga Ersecco siamo partiti da Batman e c'è poi Saga Ersecco sempre roba Marvel credo un po' ce l'aveva quella cosa però diciamo che è stato un un rapper importante a Roma ma veramente chiunque è passato al Fett Roma da da Jamie Tiles è passato intendo che ha preso il microfono in open mic nel senso senza ha tantissimi altri nomi insomma di Roma mi vengono in mente di tutto ovviamente c'era Colle del Fome il danno che era Resident rappava spesso insomma c'erano tantissimi nomi ed un via vai di gente che permetteva a chiunque volesse entrare e capire cos'era il rap italiano di capirlo ma il tuo modo di rappare non solo quello ritmico che sarebbe un altro argomento anche interessante ogni tanto è stato di discussione quasi nelle cose fatte insieme no di discussione di discussione nel senso c'era da dire ma da un punto di vista invece letterario cioè la tua formazione è in gran parte di strada e se me lo permetti io vorrei far vedere una cosa ma ora te lo dico e ti chiedo e poi se mi dà l'autorizzazione la vediamo però ci deve essere un botto di letteratura o no come cazzo fai a scrivere scrive dei testi un po' l'avete intuito lì ma se andrete a curiosare nella sua discografia c'è un modo di scrivere che non è solo l'abilità di giocare con le parole col significato della parole ma anche proprio un dizionario secondo me davvero ampio e a volte degli argomenti delle conoscenze qui non c'è la saccenza c'è proprio la curiosità dentro chi mi conosce diciamo chi mi conosce nella quotidianità in maniera proprio stretta sa che non sono una persona di questa enorme cultura che ti stupisce per la sua cultura ecco mettiamola così ho delle basi insomma so muovermi ma non sono uno di quegli individui che apre bocca e dice oddio quante cose sa io credo di aver fatto da sempre tesoro di quelle cose che mi sono accadute è un po' come quel film oggi parliamo di film The Millionaire ok lui viene dalla strada non diciamo non sa un determinato tipo di cose però quando gli fanno le domande lui riesce a superare il gioco del quiz perché ogni domanda che gli fanno gli ricorda una parte della sua vita ecco quello significa che qualunque cosa lo ha circondato gli è accaduta lui l'ha resa talmente preziosa da far parte del del suo del suo mondo quasi da modificarlo quindi quasi quasi da pensare che le domande che ti faranno non sono casuali saranno domande che in un modo o in un altro tu potrai trovare sempre la risposta del tuo vissuto quasi fosse un film ora non dico che sto in un film però dico che credo di aver fatto tesoro come un po' il protagonista di quel film delle cose che mi sono accadute di averle vissute con talmente tanta testa e cuore da creare un che sei molto più una spugna che un enciclopedia insomma esatto sono più una spugna che un enciclopedia e questo forse poi porta a me a riuscire peraltro sarà il titolo del nuovo album credo sì esatto la spugna vabbè quello che volevo far vedere se vi va perché appunto c'è questa formazione per strada che per chi non l'ha vissuta anche io non l'ho vissuta se non di rimando nei racconti e si racconta di un'intera generazione come minimo forse anche un paio di battaglie anche forse qualcuno ha visto Eminem nel film 8 Miles ma insomma le battaglie vere di strada o di nei locali fatte apposta in cui i due si sfidano in genere poi sono quei tornei per cui se vai ai quarti di finale semifinali eccetera e sono veramente assurde pazzesche ora invece di prendere i vari spit di MTV che sono comunque un pochino leccatini e mi sono andato a vedere un po' di quelle vere di strada si sente poco forse ma quella che avrei scelto dimmi se si secondo te si non lo so questa è veramente pericolosa è molto pericolosa soprattutto se andassi avanti perché a un certo punto vi dite delle cose è la finale di un come si chiama tecniche perfette forse ok contro siete tu e Nazzo ah ok non mi ricordo poco che dico vai vediamo così ci ricordiamo ricordatevi Luca casomai tu le dico io dove devi fermarti perché a un certo punto perché lì ma considerate che la metà delle cose che ci dicevamo al tempo si cioè non si possono non si possono proprio dire sì c'è un momento che ragazzi non c'è nulla di politicamente corretto quindi dimenticate un altro però però mi medesivatevi in questo in questo modo in cui c'è da una parte secondo me un'abilità straordinaria che solo alcuni hanno a me terrorizzerebbe quella cosa lì nonostante ai miei tempi un po' giocavamo ti ricordo di Pierì sul fare un po' di freestyle ma era una roba all'acqua di rose non avrei mai avuto quel tipo di coraggio e di forza allo stesso tempo la concitazione l'obbligo di stare dentro quella rima quel momento li portava e fra l'altro anche l'obbligo di viverla come una sfida come una in qualche modo violenta perché ci si diceva si dicevano delle cose terribili porta a questa roba qua non so quanto si sentirà capirà ma è per farvi vivere l'atmosfera non basti naso mi tagli la testa ne escono tre come bellissima ok adesso tu lo sai spero di rina questa roba tu sei il toro io che sono la corrida e vado avanti adesso posso se tu sei il toro non mi dire che ti esci ti voglio sangue rosso ma ne asolimi che sborda io porto rispetto a toro gli spezzo le corna l'asoletto che divorda presente il soleppo come Luisa Corna come Luisa Corna la rancore smette mi spezzi le corna dando la mia ragazza me lo rivette io sento a te perché lo sai faccio la bua io invece ne le metto con la ragazza tua quando mi spasa lo sai non vengo con la gente che porta da casa ma la presento i neri per caso la tua ragazza ce neri per casa i neri per caso sai vado avanti perfetto qualche dici sono venuto solo soletto sono venuto solo in contest e con me vado a fare una bimba prestami uno scottex che ti porta in paimo contest e scottex è una grande rima andrebbe riusata ed era tutto comprato nato improvvisa stile vai da parte bello fratello bella scoria mi ricordi di tre anni fa bella memoria attenzione perché c'è le rime carico bella cop l'hai rubato l'hai rubato l'hai rubato l'hai telefonato la tua rima matematica ho grande memoria senza facebook memoria fotografica la tua rima ti porta rima benzina ne ho la tanica è meglio che ti decidi tu fai tu fai tu calmarsi tu fai tu chimi ti coperti tu fai tu fai tu fai tu fai io me la fumo e dopo ti aggiungo sul vecchio my space non so se abbiamo reso l'idea abbiamo alzato di un po' a livello culturale ovviamente no però pure un po' sì comunque dentro quelle fucine lì si sono creati davvero anche dei mestieri è interessante prima hai nominato spit questa gara io la feci perché una settimana dopo dovevo fare spit e non facevo gare da un sacco di anni e dico madonna sono proprio un poser se vado lì in televisione e non mi vedono diciamo nelle serate reali allora mi sono iscritto così un allenamento nonostante era pericoloso perché di solito vai a fare le gare di freestyle quando non hai fatto uscire tanti dischi perché se tu hai fatto uscire tanti dischi e vai a fare le gare di freestyle loro hanno una quantità di cose da dirti e tu non sai che dirgli perché non hai sentito manco una canzone loro al massimo sulle scarpe sui vestiti ma diventa una banalità unica e soprattutto il pubblico fa molto più casino quando l'altro cita una cosa che loro conoscono contro di te certo ti do che ne so vabbè comunque me ne hanno dette di tutti i colori quindi no ma pure qui veneti dopo peggiora tanto dopo vi comincia a dire delle cose veramente pesanti la cosa volevo mettere il finale perché il finale ti riforme pure naso devo dire ne tira fuori un paio ma mi sa che poi ha vinto lui è quello che ti volevo chiedere chi c'era alla fine no 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 ha vinto lui perché eravamo in semifinale però sbloccato ricordo sbagliato no no da paura nel senso poi spit è andato bene era un buon allenamento perdere in modo tale poi vai a spit era più importante comunque far spit e lì stavo al quartiere mio quello dove sei arrivato a pari merito con Clementino no sì lo spit gala sono arrivato a pari merito con Clementino invece poi la spit serie sono morto in semifinale morto beh sì come nei videogiochi no morto vabbè comunque andava fatto secondo me questo spaccato veniamo a noi e facciamola pure breve anche perché la chiacchierà volendo si poteva anche chiudere qua però quello che raccontavi prima anche del motivo per cui ti chiami rancore da dove parte tutto questo probabilmente in parte spiega anche perché io a un certo punto alzo il telefono e noi non ci conoscevamo affatto ma io avevo per le mani una cosa una storia che era nata anche lì tanto per usare questa parola ancora una volta particolare anche un po' difficile in cui cercavo di dare voce a un sedicenne a uno studente di scuola ispirandomi facilmente un po' anche a dei figli che avevano più o meno quell'età in quel momento e anche a un mondo che non capivo in realtà in cui cercavo di entrare di capirlo il modo in cui vivevano la scuola in cui vivono in gran parte anche adesso la scuola arrivavo fino a un certo punto in realtà avevo scritto anche tanto manco poco effettivamente però sentivo che mi mancava il sentimento cioè ci arrivavo con la razionalità provavo a darglielo in parte però mi serviva qualcuno che ci avesse anche l'atteggiamento e non solo per motivi enagrafici ma proprio per indole per dare voce a quel rancore dopodiché quando lui ha risposto alla chiamata ed è venuto in studio parlo io credo che sia successo qualcosa di abbastanza incredibile perché lui è arrivato se vuoi raccontare il tuo punto di vista magari è diverso però sembrava che fosse già dentro il pezzo dopo cioè come se lui stesse aspettando quello o che stava nella testa avevi quello mentre arrivavi non lo so so che dopo qualche ora aveva scritto un fiume di roba ti ricordi quanto abbiamo tagliato per riuscire a stare più o meno il doppio avevo scritto e poi siamo riusciti anche perché correggimi se sbaglio ma tu sei venuto abbiamo cominciato hai scritto ci siamo rimarrati delle cose e dopo ti ho detto a distanza di due giorni secondo me ci dobbiamo andare a Sanremo sì 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 esatto ma neanche avevi sentito quello che avevo scritto no avevi qualcosa mi avevi detto forse sì ti avevo detto che avevo scritto solo quello non è bastato sì che comunque è un ricordo diverso però se mi può essere poi per carità non è che avevamo detto cioè mi avevi mandato un segnale della cosa non è che era sicuro mi avevi solo detto guarda c'è questa possibilità ma a te che hai pensato e là ci siamo visti subito dopo e allora da là quando poi ti ho fatto sentire cioè quando abbiamo capito insomma che il materiale c'era ho scritto bisognava solo tagliare allora la cosa si è concretizzata un po' di più all'inizio era c'è questa idea vediamoci mi sono andato a rivedere tutta la nostra la nostra messaggistica abbiamo tagliato veramente un botto di roba soprattutto di quella tua sì però poi ha dato anche origine al fatto che l'ultima parte del brano l'abbiamo scritta insieme sì certo e questo ha permesso di fare questo incastro finale che era fondamentale secondo me perché crea quel dialogo e quel chiudere il racconto a vicenda che secondo me era è molto importante dentro il pezzo insomma e comunque poi siamo andati a farlo in quel posto lì e con questo signore abbiamo vinto tutti i premi che si potevano vincere e di questo sono molto orgoglioso signore e signori rancore grazie sigla e ora facciamoci pure una cantatina rappatina come la voglio amare come ti pare